Il concerto dell'Epifania, ovvero sia musica natalizia, ma musica sia di una religiosità più tradizionale, sia più afroamericano, ovvero sia gospel e spirituale. Il concerto dell'Epifania del coro Ben Joseph, una formazione con un repertorio molto particolare di musiche spiritual, gospel e classici della tradizione, per l'occasione selezionati pezzi anche che si adattano al clima natalizio. Il coro amatoriale che si dedica da anni al repertorio contemporaneo, ma anche afroamericano, saranno presenti degli strumentisti che collaborano solitamente con noi, tra i solisti e la vocalist Benedetta Torrini e il soprano Elisabetta Materazzi. Ad Arezzo non siamo molto conosciuti, anche se è già da diversi anni che noi frequentiamo sale concertistiche e chiese, però con noi c'è sempre questo valore aggiunto che sono degli ospiti, special guest, chiamiamole così, che danno un quid ulteriore ai nostri concerti.